È stato approvato dalla Giunta il terzo lotto di interventi sulle mura veneziane nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo che vede la partecipazione del Comune di Bergamo, dell'Associazione Orobica Ambiente e dell'Università di Bergamo. Questo terzo step comprende il taglio a raso della vegetazione in corrispondenza del baluardo di Valverde è un'operazione preliminare a eventuali successivi interventi in quanto si tratta di capire qual è lo stato di conservazione della struttura muraria al di sotto della spessa coltre di vegetazione che lo ricopre. Per cui una dita specializzata tramite ponteggi provvederà alla rimozione della vegetazione e questo ci consentirà insieme al demanio che è il proprietario delle mura veneziane di valutare insieme eventuali successivi interventi.